Giardini, orti, parchi, patrimonio che conosciamo poco e che vale la pena scoprire. L'opportunità ce la offre un'iniziativa dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia-Romagna. Francesca Turi. Sara Villaspada, Bologna, ad inaugurare la quinta edizione di Vivi il Verde, rassegna promossa dall'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna, alla scoperta dei giardini più belli della regione, da Rimini a Piacenza. A Villaspada, proprio accanto al giardino all'italiana settecentesco, troviamo la mostra Tessere Giardini, un itinerario molto particolare che i curatori del museo, Giancarlo Benevolo e altri, hanno realizzato esaminando alcuni abiti, ad esempio di fine settecento, quando la moda dettata dalla Corte di Versailles arriva a riempire gli abiti maschili e femminili con la natura. Più di settanta le aree verdi da scoprire, fra natura, storia, cultura e curiosità, oltre un centinaio gli appuntamenti in programma. Con questa iniziativa noi vogliamo far scoprire a tutti i cittadini le tantissime sfumature di verde della nostra regione, quelle settanta sfumature di verde che il pittore Giorgio Morandi vedeva nel paesaggio della sua amata gristana, la residenza estiva. Tra i luoghi da conoscere meglio anche l'Orto Botanico di Bologna, uno dei più antichi d'Europa, che festeggia i 450 anni dalla fondazione. Avremo dei giardini molto interessanti di alcune ville nobiliari, tra cui Villa de Verge a Rimini, Villa Fantina Tredozio, Villa La Babina Imola. Ci sono altre realtà come il Parco del Mauriziano, caro all'Ariosto, dove c'è la casa natale di Ariosto. Visite guidate, percorsi sensoriali, lezioni pratiche, tante iniziative quasi tutte gratuite, come il tree trekking col coro, in programma domenica 23 settembre. A Bologna andremo alla scoperta, in un itinerario gratuito, di alcuni alberi monumentali della nostra regione, vere e proprie torri verdi che si accompagnano alle torri del nostro centro storico, alietati da tre corali.